ciao rider benvenuti in questo nuovo video oggi sono qua per parlarvi di un prodotto e vi porterò una mia recensione e sto parlando di un pneumatico che da un po di tempo monto sulla mia moto chi mi segue su instagram già lo saprà perché l'avevo spoilerato in qualche storia sto utilizzando le maxis e per il momento sto montando solo il pneumatico posteriore e il modello in questione è l'M73 32 che è quello indicato proprio da gara è una gomma che si utilizza su terreni medio morbidi e adesso vi darò qualche indicazione un pochino più precisa per farvi un'idea anche voi di come funziona questa gomma innanzitutto ci tengo a sottolineare cosa ho osservato cosa ho cercato di dare attenzione durante le prove per analizzare il copertone secondo me una gomma pneumatico soprattutto da cross va un attimino analizzato per quanto riguarda il feeling che trasmette alla guida e poi la durata e soprattutto la modalità di utilizzo cioè la risposta che questa gomma da in varie fasi di consumo del copertone di fatti io la gomma l'ho montata da nuova in occasione della nostra uscita che abbiamo fatto nel weekend di ottobiano ed orno dopodiché non l'ho più tolta e l'ho potuta utilizzare su vari terreni fino a portarla a un consumo proprio alla frutta adesso vi farò vedere tra poco come ho consumato il copertone vi darò anche qualche qualche termine numerico per farvi capire quante ore ci ho impiegato per consumarla così e in più è stato importante che l'ho provata sia su terreni morbidi che terreni duri perché in seguito al weekend che abbiamo fatto sulla sabbia siamo stati anche su piste dure come ad esempio la mx 45 siamo stati a corrido un paio di volte oggi mi trovo su una pista dura e anche abbastanza fangosa perché nel mattino hanno bagnato e anche settimana da piovuto sto provando lo stesso pneumatico che abbiamo provato nella sabbia e ho riscontrato stamattina dei buoni feedback mi sto trovando bene sia nei tratti morbidi della pista quindi dove è più bagnato c'è meno grip e anche nel duro devo dire che ha un'ottima risposta anche se questa è una mescola che è più predisposta per i terreni medio morbidi però finora sono parecchio contento e devo dire che mi sta sorprendendo abbastanza sì e in più ho avuto l'occasione anche di andare a montagnana e provarla anche in quell'occasione su un terreno duro la vita di un copertone la durata quindi è data un pochino da dalla guida del pilota e soprattutto dai terreni in cui si va a girare questo copertone qua mi ha durato la bellezza di 14 ore e posso dire che si sono divise queste ore tra terreni duri e terreni morbidi perché c'è stato un equilibrio proprio tra metà terreni duri e metà terreni morbidi e la gomma si è consumata bene quindi non c'è stato un momento che si è distrutta di punto in bianco quindi il consumo è stato graduale devo dire che anche oggi abbiamo girato su un terreno duro e ho testato la gomma soprattutto la sera che la pista aveva seccato non c'era più nessuna zona umida mancava il grip ovunque per quanto riguarda diciamo il terreno della pista però mi sono trovato davvero bene anche con questa gomma qua che prevalentemente è da morbido mi ha stupito anche la tenuta appunto del tassello perché avete visto che a fine giornata e oggi comunque ho girato sicuramente più di un'ora di moto e devo dire che resiste anche bene quindi mi avevano anticipato che la gomma potesse tagliarsi ma finora sta tenendo bene e questa è la quarta girata di cui due sulla sabbia e questa è la seconda sul duro e posso dire anche che le performance sono diminuite molto lentamente cioè anche con il copertone devastato l'ultima girata che ho fatto che è stata a corrido devo dire che mi ha dato delle sensazioni discrete cioè nel senso che non mi ha abbandonato al 100% anche se visivamente il copertone adesso ve lo mostro è veramente a zero e quindi la differenza tra diversi pneumatici è anche questa che con il copertone a un 20% di utilizzo molti molti marchi e molti modelli abbandonano definitivamente quel che riguarda la tenuta e l'aderenza mentre con questo copertone qua devo dire che la risposta era ancora abbastanza discreta una caratteristica tecnica di questo copertone è il disegno dei tasselli perché se possiamo osservare sono asimmetrici è una caratteristica che contraddistingue questo copertone da altri modelli e proprio per questo secondo me ci garantisce una buona aderenza una forte trazione fuori dalle curve in accelerata se posso sbilanciarmi un po di più e dirvi quello che secondo me è il punto forte della gomma è proprio il cambio repentino da una zona di pista umida a una zona di pista secca a volte quando i tracciati sono irrigati le girandole non arrivano in tutti i punti della pista e in alcune traiettorie si passa dalla zona scura bagnata alla zona chiara asciutta e secca e avvertite proprio quella sensazione di perdere la moto dalle mani e in questo caso l'ho avvertito molto meno mi ha dato parecchia fiducia e mi riferisco proprio all'ultima girata che ho fatto a corredo che nonostante come dicevo prima il copertone fosse già a fine a fine vita e mi manteneva comunque un buon feeling in questi cambi repentini di di terreno ovviamente bisogna un po contestualizzare il mio feedback a un copertone posteriore e quindi le uniche caratteristiche a cui possiamo far fede sono la frenata quindi l'aderenza in frenata in staccata e in accelerazione la trazione che abbiamo fuori dalle curve e quelli sono i punti dove che il posteriore viene messo a dura prova ok allora adesso vi mostro un po il copertone come si è consumato diciamo che dopo 14 ore adesso vedrete il risultato e secondo me non è niente male perché altri copertoni si consumano anche prima facendo il lavoro che gli ho fatto fare io non mi sono risparmiato in nessuna occasione ve lo posso garantire sì se devo essere sincero la gomma è consumata parecchio però non ci sono tasselli tagliati ma sono consumati sono consumati bene quando la gomma si consuma bene segno che non c'è stata una situazione nel quale ha sofferto principalmente perché in quel caso la gomma si rompe oppure un altro caso di rottura dei tasselli quello si può verificare in inverno con le temperature molto fredde ma non è questo il caso perché appunto stiamo parlando di una stagione estiva sinceramente io adesso il copertone lo smonterò e monterò un'altra gomma sempre della maxis perché ho un altro modello da provare però ecco diciamo che non è niente ancora proprio alla fine 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 totale di vita qua c'è ancora un po di tassello come vedete che magari una mezza girata di un pomeriggio si riuscirebbe ancora a fare ok adesso che avete visto la gomma prossimamente io la toglierò e monterò un copertone nuovo sempre come dicevo prima un copertone maxis perché mi hanno affidato un altro modello da provare quindi prossimamente vi porterò altri feedback vi invito a seguirmi anche su instagram se volete vedere già qualche spoiler prossimamente spero che questo video vi sia stato utile anche a voi per conoscere questo pneumatico se non l'avevate mai provato prima e di avervi dato quindi qualche informazione interessante io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!